Benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti. Gianfilippo mi lo diranno in quadratura. Gianfilippo. Primo video dell'anno. Insieme. Non c'è l'orologio, amore. Vuole vedere tu, ecco. Si vedete. Le 11.34 11.34 del primo gennaio 2020. 2020 20-20. Aspetta, posso mettere la luce? Così magari ci vedano, è più brutta. Scherzo, è più bello al buio. Si, si, è più bello al buio. Questo è il nostro primo video. Due video dell'anno insieme, amore. Immaginate quanta bellezza sia questo video. Si, con il mio braccio. Ce l'ho tatuato, mi fa malissimo. Ah, che bello così, più bello. Sempre col passo che sei tatuata. Non volevo tatuarmi. Soprattutto il braccio scorciato. E poi si sta scorciando anche del mare. Che bella battuta, amore. Che bello. Si, se vedete che c'è il logo qua. Non è milanista e lui prende, non crede in niente. Perché è caldo. Tutto quello. Perché è molto caldo. Bravo, amore. E fa dormire bene. Queste bellissime lenzuola le trovate da casa da un uomo. Guardate che bello il mio occhio appascioglio. Facciamoglielo vedere. Si vedrà. Si vedrà. Si, guardate che bello che ha. Questo è il cappascioglio. È più morissimo. Tutti e due che siamo insegnanti. Per empatia, si. Il mio soffitto è viola. Le ho chiesto. Il mio soffitto è tutto viola. Allora, ciao empatia. Ciao Claudia. Sì, il mio soffitto è tutto viola. Le mie pareti, no? Terno lì, adesso sono bianche. È un colore strano. Ma si sentirebbe? Perché non so più sentirsi. Ah no, lo so. Sono così un'inversione ASMR. ASMR. Mi raccomando, passate nel suo canale. Il suo canale. Blenglaim. Blengame. Blengame. Quella roba là. Che lo trovate qui sotto. Nel mio canale consigliati. E' il mio canale sarà ASMR. Che un giorno riuscirò a dire in maniera decente. Sara. Sara ASMR. No, non voglio dire. Tipo Sara ASMR. A-S-M-R. Se avete notato poi in qualche video ho i capelli rossi. Si, ma non si vede un pochettino. Un po' meno. C'è pure le sopracciglia rosse. Porta anche bene, devo dire. Allora amore, che cosa ci aspettiamo da questo? Facciamo un pronostico di coppia. Che ci aspettiamo? Si. Cosa ci aspettiamo da noi? Quello singolo l'abbiamo già fatto. Da noi stessi. No, come coppia. Da noi. Di fare un viaggio insieme. Anche. Di trovare lavoro tutti e due insieme. Anche quello. Mettiamo insieme. Cioè poi mettiamo il posto. Allora il bello è questo che si dovrebbe mettere al primo posto lavoro insieme. Noi mettiamo prima il viaggio. Poi si. Perché non penso. Allora ti spiego. Io penso al viaggio. Per avere il viaggio bisogna lavorare e avere i soldi. Capito amore? E poi pronostichiamo che il mio amore mi regala a San Valentino l'anello. o almeno per i due anni il mio compleanno. Allora. Guardate che belle le mie unghie nuove. Sono squadrate. Vedete che ci manca proprio qualcosa nell'altro dito che non posso farvi vedere. Ho in questo dito qua. Ecco. Se ad esempio riuscirò poi chi può darlo? Chi può dirlo? È molto probabile che se riuscirò faccio prima un viso di nascosto. E poi lo guardo. E quale malvagità? Perché? E quale malvagità? Cosa almeno vedono? Vedono? Vedete voi? Sì tra un po' vedono solo il tuo dito. Vedete voi? E perché poi è in 3D? Vedete che bello? Ma che dito storto. Poi vedete? Sì però aspetta. Ma le mie sposti Gianfilippo? Gianfilippo se ne va. Ecco. Lo mettilo qua. Così ci puoi giocare. Ah cavallo e braccio. E quindi? Sì io dormo con la shardback perché ho la cervicalgia. Sì sì. Lo metto la shardback. Ecco. Così almeno poi diventa molto simpatica l'idea. Perché poi. Di cosa? Un giorno vedi il tuo video. Giusto. Ti boccati. Con l'anello che esce. E poi me lo dai però all'anello. Sì certo che non mi dovevo tornare io. La mia papeltina. Per te. Mi sono già rovinato tutti i capelli. Qualti pronostici. Qualti pronostici. Mi penso che senza il lavoro non possiamo fare un cazzo. Quello anche. Senza macchina non si può fare niente. Ecco io sto per prendere la patente. Prendere. Non farò ancora la teoria. Prendo la patente amore ti devo prendere con la macchina. Non so che paula. Però è meglio di pullman. Se vuoi quel 71 eh. Io non me lo pongo. Hai pure quel 71. Mi piace. Cosa abbiamo fatto ieri amore? Raccontiamo. A parte altri pronostici che hai. Fare più sesso. Possiamo dirlo? Diciamo. Ma non tanto abbiamo detto. Fare più sesso. Così non tagliamo questo pezzo. Tanto non è andato ai bambini questi video. Abbiamo già dichiarato. Ecco. Io sono una creator perché ho più di 1000 iscritti. Quindi bambini e non guardate questo video. Tanto comunque prima scoprirete che siete usciti dal sesso. Giusto. Sono pure tutti i miei cugini e nipoti futuri. Abbiamo mangiato ieri. Hai aspettato i pronostici amore? Ah sì. Cosa potremmo dire? Mi pareci sempre i regali. Mi piace quando ci facciamo i regali. Sono andato belli. Sono andato belli. Sì. Poi altre cose. Ecco. Ci doveremo il lavoro e ci dobbiamo venire a trovare a vicenda. Come facevi tu quando andavo via le glue? Giusto. Però questa cosa va all'inviceversa. E tu un giorno mi dovrai trovare l'inersità. Anche se non ti piace. Dammi una volta quando do l'esame. Se lo darò mai. Guardate questo video. Non guardate questo video perché prima non è andata. Io ho dichiarato che non sono frequentante. Non so che sia così. Però non è andata. Non è andata. Non è andata in... Sono andata un paio di volte. Solo che alcune volte non sono riuscita. Sono sempre stata male. Poi cazzo. L'unica volta che non mi hanno riuscita il contratto. C'era la pausa per gli esami di chi era morto l'anno prima. C'era la pausa. Vanno apposta. È giusto. Comunque a parte ciò. Ah è andata un paio di farci di nuovo i capelli rossi. Vanno fare i capelli rossi e a tutti farò il cuffetto. Faccio il ciuffo rosso. Il ciuffo rosso. Il naso all'insù. La canzoncina. Sì di Dexter. Poi si dà il mio copio dove la cantiamo. Dexter. Ah non sono più truccata vero? No non sei più truccata. Non è male. Ma si ti sei truccata ieri. Non so se sono male perché mi rimane qualcosa vuoto. Cosa mi ha fatto ieri sera? Ah poi uscirà un video. Uscirà un video. Dove praticamente facciamo un fotomontaggio di quello che abbiamo mangiato a vigilia di Natale. Natale e Capodanno. Tutto in un video. Sì. Perfetto. Mi sta dicendo che mi regala qualcosa per il 2020. Grazie. Non mi è contenta. Non mi è bravo. Mi sei contenta. Si guarda non mi toccare il blaccio mi fa tanto male. Ma non ci sto toccando. Si. Si è diacente. Ah sono diacente. Quindi noi faremo probabilmente questo video. Ecco. Dove faccio vedere tutte le pettovaglie che aveva mio padre che aveva mangiato per Capodanno. Poi per chi non lo sapesse facciamo un piccolo spoiler. Non so quando uscirà questo video. Non ho più po' di idea. Anche io. Lo scopriremo qua amore. Lo scopriremo solo vivendo. Ecco. Comunque. Ieri siamo andati a festeggiare Capodanno. Almeno fare la cena. Giusto. Da Ichi. Ho scritto Ichi. Poi metteremo. Nel video lo spiegheremo tutto. E ho mangiato tante buone cose. Una cosa stupenda. Perché noi metteremo quelle immagini. Non possiamo stare a commentare tutti i piatti. Perché poi vedrò. Magari li commenteranno. Non so come mi girerà. Ma. Comunque. C'era un roll amore. E scrivi il roll. Allora. Questo roll era. Con il roast beef sopra. Il riso. Sì. E all'interno la carne di fassone. Che buona carne. E la rabbiola. E la rabbiola. Con sopra. La salsa tonnata. La salsa tonnata. La magnificenza. Fatta sushi. Cioè. Non c'era una cosa di masticare. Non goiavate intero. E poi non era pesantissimo. Cioè. Dopo magari. Cioè. Lo si infrate dopo. Sì. Perché comunque ho mangiato tanto. Mi ha preso i sashimi. Parti. Mi ha assaggiato l'ossica. Espresso un desiderio. Amora. Quando assaggini una cosa nuova. Ti esprimi un desiderio. Esprimilo adesso. Comunque. La prima volta che hai assaggiato l'ossica. Era buona. E' molto buona. Sono molto abituata a mangiarle a. Alla breve. Alla vigilia io. Allora. Quindi sono. Non so come. Cioè. Si sente. Una cosa buona o meno. Ho mangiato. Penso. Una tonnellata di salmone. In carpaccio. La tartare. C'è una tarta speciale. Con la salsa di mango. Che era buonissima. Ne abbiamo prese due. Però. Secondo me. A temperatura ambiente. Era più buona. Che a temperatura fredda. Molto probabile. Del frigorifero. Perché sinceramente. Dopo un po'. Una cosa che però mi ha. Spiazzata. E' stata l'insalata. Con i gamberi. Che era veramente buona. Quella era. Era molto leggera e buona. Perché comunque abbiamo mangiato abbastanza cose. Abbiamo mangiato. Tanto sashimi. Siamo parte di quel sashimi party. Ovviamente c'è. Tutto. Un po' di tutto. C'era tipo. Salmone. Salmone tonno. Gambero crudo. Scampo crudo. Scampo crudo. Scampo crudo. Poi c'era l'ostrica. E poi abbiamo preso il sashimi misto. Lui. E io ho quello salmone. Che c'erano tipo. Dieci pezzi di sashimi. Ma. Bellissimi. Pessi così. Un sashimi. Era proprio un salmone. Un tronco. Poi ho preso. Io ho il. Il salmone squattato. Il polipo con le alghe. Che era un po' strano. Mi sono piaciuto tantissimo. Le alghe erano quelle. Quelle nere. Con le cotte. Poi ho preso le alghe normali. Poi ho preso amore. Non ho preso nemmeno i giri. Adesso che ci penso. Ah. I gunkam. Ho preso gunkam di ogni tipo. Che quelli sono. Proprio bigne. Ma i giri non li abbiamo presi. No. Non ho preso i gunkam. Tutti i gunkam con filadelfia. Quello spicy che abbiamo preso due volte. E ho preso sei tartare. Ah. No. Io ho preso un altro. I tartare con l'avvocato. In salsa ponzu. Giusto. E poi. Ho preso appunto. I gunkam con filadelfia. Quello spicy. Quello con le uova di. Con le caviale sopra. Poi quello con la tartare sopra. Mmm. Basta. No. Ho preso qualcosa. Però non mi ricordo. Beh. Vabbè. Vabbè. A parte le alghe. C'è qualcosa. Avevo il roll potente. Avevo il roll. Non so. Dovevo le foto poi. Ma poi abbiamo le foto. C'è qualcosa altro. Ma non ho mai fatto più. Le guarderete nel video che uscirà. Con molta bellezza. Non si sa quando. E' artura. Si fatti. Perché dobbiamo girare un po' di video. I regali. Il cibo. La vita. Un po' di video ce l'abbiamo. Due video ce l'abbiamo. Un po' di video ce l'abbiamo. Un po' di video ce l'abbiamo. Un po' di video ce l'abbiamo. C'abbiamo. Io due video. C'è un po' fatto che abbiamo mangiato che non mi ricordo. A parte l'insalata. L'insalata mi ricordava molto quella cinese però. La salsa veramente buona. L'insalata è veramente buona. Alla fine. Eh si. Con una salsa e il sesamo. Era buonissimo. La salmone scotta. Dopo che cosa c'era d'altro. Io non mi ricordo. Ma comunque arrivano tantissimi piatti. Avevo potuto assaggiare le tagliatelle. Però. Stavo già scoppiando un po'. Tagliatelle. Ah poi abbiamo mangiato il sorbetto e limone. Che era incluso. E poi. C'è il dannisco. Stavo scoppiando. Che infatti è spumante. Con un po' di panettone. Ma io ho mangiato giusto un morso. E io ho preso un pezzettino. La gomma. E basta. E basta. Sì. Si era indicappata perché facendo il tatuaggio. Riuscivo a maneggiare le bacchette. Quindi alla fine ho mangiato quella forchetta. Abbiamo mangiato quella forchetta. Lo so che voi. Non si mangia quella forchetta. Io sono bravissima con le bacchette. Sì. Non so come mai. Mi si sono sminchiati i nervi. Mi cadeva tutto. Mi cadeva. Ero molto triste. Avevo obbligato ad usare la forchetta. Mi sentivo sola. Mi sentivo sola. Ho bevuto praticamente due caraffone. Due teglieri in tre di tè verde. Tre litri di tè. Che andiamo continuamente in bagno a pisciare. Tattasette volte. Però a me ne sono po' il figo che erano in ultimo dell'anno. Ah. Poi. Cos'abbiamo a raccontare ancora. Ah ecco. Iscrivetevi ai nostri canali. Perché non si sa perché la gente ha deciso di togliersi. Non so. Perché li siamo sul culo. Molto bene. Cioè posso capire che alcuni video. Io ho perso tipo 10 iscritti. Ma penso che sia per chiusura canale. E io ne ho perso 7. O perché li sono sul culo. No. Molto probabile che ci trovano noiosi. Ma siamo belli carini e simpatici. Noi siamo coccorini e coccolosi. Iscrivetevi ai nostri canali. Iscriveteci. Iscriveteci. Poi cosa? Perché poi John Filippo si incazza. Mi verrà a trovare e si incazza. Guardate come è feroce. Iscriveteci. Iscrivetevi ai nostri canali e isoluto il mio nuovo canale. Sara ASMR. Non ciò posso fare un giorno a dirla al giusto. Sara. Sara. Asmr. Sara. A. A. S. A. A. Dormi. Sa cosa ne ha attaccato lui quando dicevo gli ASMR. E non andava a dormire col pennello. Si perché stavamo parlando. al telefono a un certo punto e gli ho detto dormi lui mi sembra comunque tanto e quindi poi ha preso un pennello e nel telefono ha fatto dormi con quell'esame ora li faccio bene mi cacano più lì che qua comunque poi cambierò vari video questo sarà il primo video molto allegro di coppia ricomincieremo a fare i video perché siamo molto comodi amore a chi è comodo prima dell'anno e comodo tutto l'anno io ho notato che tutti i proverbi tutto l'anno poi cambierò vari video in mio canale che poi ho detto nei pronostici venti venti me lo andate a vedere il video quello lì e cosa volevo dire d'altro a me dicendo venti venti mi ricorda una cosa della professoressa ma cosa si è l'europa venti venti economia stop pof non so se ci guardiamo questo video ve lo ricordo ancora il pronostico venti venti non hanno fatto un cavolo mi sa devono ridurre le emissioni di co2 l'ambiente altre cose forse una cosa su mille hanno fatto avete visto i cambiamenti ridurre la disoccupazione ma dove non iniziamo a poco andare cose cattive comunque faremo poi gli altri video insieme volevo poi riaprire la pubblica se riusciremo ovviamente con le sue recezioni dei ristoranti facciamo noi facciamo tipo quattro ristoranti due persone il programma bellissima in realtà quattro ristoranti due persone si recensiamo dei ristoranti abbiamo già il programma di recensire appunto ici che non abbiamo mai fatto poi abbiamo facciamo prima di un visit delle hula posh del posh love che abbiamo già in mente quella delle gru e è quella dell'ingotto sono duecenti commerciali ecco e poi dovrei censire il posto due settimane dove avete portato il tuo compleanno aspetta quello ci siamo andati appena asco oddio mi capito come si chiama intanto badigliavo come si chiamava come si chiamava non lo so se hai c'è un voto mentale oddio non so perché mia madre giù mi ha detto non so se saranno e mi sono confusa si chiama le campane non lo ricordo più vabbè comunque risolta che c'è un venasco vabbè semmai mi sfugge il video sotto nella descrizione vabbè tanto poi lo faremo il video comunque di questo risolta che c'è un venasco che di cui mi sfugge momentaneamente il nome perché non ricordo il nome allora lì c'è un andiamo alla ricerca del ristorante per tutti ecco si chiama come si chiama benasco ristorante comunque si va proprio a benasco all'inizio e dopo lì per coppia di benasco perché di torino lo sa l'angolo partenopeo abbiamo messo adesso lato sopruiano l'angolo partenopeo che è praticamente prettamente napoletano penso sia comunque molto terra terra meridionale quindi faremo anche la recensione di quello e poi la recensione di come ci siamo votati con globo perché io ho fatto un video ma mi si è tutto sminchiato allora lo faremo insieme ci troviamo con questo nuovo servizio di globo giusto e niente dopo che questo video è durato quasi 20 minuti auguriamo un buon inizio anno perché deve essere 20 20 ci arriveremo a 20 minuti 20 20 mancheranno ancora 3 minuti cosa parliamo lalalalalala kanshi kange? no la consumi kanshi e ecco vorremmo fare e poi se riusciamo dei video con le cucinate giapponesi senza darci copierai dataci un'idea come fare senza fare il copierai perché è arrivato fino a questo punto il video e che se commenta nessuno mette hashtag domande di coppi fateci delle domande, sensatevi prego, si molto sensate, fatele nei social, in privato, qua sotto, dove avete voi, qua sopra, molto probabile, molto probabile che, se, se, sopra, mi vuole mordere, ma io lo voglio mordere il naso, non muori, ti sbavi, vabbè, io vi consiglio questo pigiama, qua, perché è molto caldo, chi ha bisogno di caldo, quando dorme, io consiglio questo reprotto, molto amore, provate a indovinare dove si trova, se avete state guardando questo video, dai che ho, che ti vedi, l'hai detto subito, almeno se lo vanno a comprare, comprate i fratellini, c'è un filippo, compratene 30, mi dice, amore mi sei facendo male a blaccio, scusa, mi sto bene in questione, ti ho incancrenizzato, cancren, maldì, poco a poco, brutta persona, è un coniglio di peccato, ma non si soffi un naso in pubblico, adesso è questa la legge dell'Europa 2020, ah giusto, ci salutiamo e vi auguriamo un buon 2020, non so, non ci riusciremo a finire l'anno e 20, ciao, ciao